3 Eh... Ehi, ma... Scusa, zio, suonavamo troppo forte? Troppo forte non esiste nel mio vocabolario, come osi tu? Non ho capito Come osi tu pensare di spacciarti per un musicista? Ma un sacco di band usano loop di batteria Un sacco di ascensori mettono i pezzi di Celine Dion, non per questo è giusto Prendi questa scatola infernale Metti un loop di fuga Smamba!